Ciao, sono Rinele Antonio, sono un fisioterapista che lavora a Verona e sono qui a Milano per partecipare al corso sulla tecnica Gavidano. Finora quello che abbiamo visto è veramente interessante. Le aspettative erano tante e finora sembra che le stiamo tutte confermando. Semplicemente perché ti aiuta a salvare le mani, è importante nel nostro lavoro. Che è valida, ho visto trovando piccoli esercizi e quindi non un completo trattamento, ci si vede una differenza. Secondo me sì. Grazie a tutti, consiglio il corso a tutti. Grazie 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 a tutti